Buona serata a tutti voi. Il passaggio della coda di un fronte perturbato in movimento verso i Balcani favorirà questa notte dell'instabilità diffusa al centro nord, ma si rimarrà in un contesto debolmente anticiclonico in tutta la penisola, pertanto già domani mattina il tempo andrà migliorando nelle regioni adriatiche e ci sarà spazio per i soliti temporali pomeridiani di calore sui monti e aree interne. Sarà così anche nei giorni successivi, sebbene l'attività convettiva pomeridiana andrà scemando sempre più e si prospetta un weekend dai connotati semiestivi in tutta l'Italia. In Abruzzo tempo momentaneamente in peggioramento questa notte, ma già domani mattina dovrebbe migliorare, sebbene nel pomeriggio ci sarà spazio per i soliti scrosci temporaleschi di calore sui monti e aree collinari più interne. La ventilazione sarà debole proveniente dai quadranti settentrionali ed il mare da calmo tenderà a divenire poco mosso. Le temperature minime di questa notte comprese tra 8 e 16 gradi e le massime di domani in leggera diminuzione comprese tra 19 e 23 gradi. L'appuntamento con il meteo è per domani mattina. Buona serata.